Ed eccoci qui ragazzi e ragazze in compagnia del vostro formidabile Diablotex per continuare sul nuovo Sword Art Online in versione Playstation 5 Detto questo, bando alle ciance, senza perdere tempo, andiamo avanti, andiamo avanti Allora qui abbiamo anche dei negozi, non so se al momento saranno aperti ma non mi interessa perché andremo avanti Verso la destinazione principale e vediamo un po' cosa ci sarà da fare qui Ah, complimenti, missione Regno degli Umani e territorio oscuro Completata, ricompensa ricevuta, ok Vediamo un attimino cosa abbiamo da fare adesso Vediamo un attimino Cardinal, questo è quello Cosa è? Non è vero In un'altra parte, non ha fatto una bambina Non c'è una bambina Non c'è una bambina Cosa è? Cosa è una bambina Che cosa fare? Ok? Non c'è? Grazie 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 Grazie. 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 Allora, domani dovremo muoverci presto. Appena tornati penserò alle provviste, giustamente. Grazie, io penserò al necessario, per il vostro viaggio nel territorio oscuro. Lui penserà a tutto, quindi. Almeno questo dice, poi vediamo se manterrà la parola. Bisogna anche vedere se manterrà quello che vediamo. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Un talismano? Non sappiamo cosa ci aspettano, anche se forse non sarà di grande aiuto. Beh, ora abbiamo i fondi, quindi pensiamo ai preparativi. Beh, abbiamo i fondi, insomma, insomma, i fondi, avremo pochi di quei crediti per acquistare che sinceramente ho ottenuto talismano foglia solare. Missione principale, acquista le armi e le erbe della salute che ti serviranno per il tuo viaggio nel territorio oscuro, vai nel negozio, ok, il negozio è qui, il negozio è qui ragazzi. Ok, allora, negozi e rarità. I negozi vendono armi, armature e medicine, gli oggetti in vendita variano a seconda dell'aria, puoi controllare il tuo inventario dalla schermata oggetti. Rarità, a volte troverai in vendita oggetti speciali come armi con abilità e parametri non presenti sulle armi normali. Le rarità sono diverse in ogni negozio e cambiano con il passare del tempo, quindi tieni gli occhi aperti. Fantastico! Equipaggiamento Nell'underworld è possibile trovare molte varietà di armi, ciascun personaggio può equipaggiare un tipo specifico di arma. Nota, solo Kirito può cambiare il suo tipo di arma. Oltre alle armi può equipaggiare anche un'armatura e due accessori. Vabbè, andiamo qui al negozio, vediamo un attimino. Ah, 10.000 crediti abbiamo. Ah, ok, danni, forza, vediamo un attimino, eh. E costano abbastanza comunque. Allora, vediamo un attimino. Spadoni, acciaio battuto. Allora, vediamo un po'. Equipaggerò per fatti miei, ragazzi. Equipaggerò per fatti miei, vediamo un attimino. Frusta, katana. Abbiamo anche una katana. Grazie a molte. Menu principale e sottomenu. Apri il menu principale. Qui puoi cambiare l'equipaggiamento dei personaggi, le impostazioni e altro. Puoi anche rivedere il tutorial. Avanzando nel gioco sbloccherai altre funzionalità. Apri il sottomenu, da qui puoi vedere il registro battaglia, sguenare e rinfodelare le armi, cambiare la distanza della visuale, le impostazioni di difficoltà e accedere a funzioni di comunicazione speciali. Solo Chirito può cambiare il tipo di arma. Quando cambi arma, anche la gamma abilità cambia per includere abilità adatte. Ci sono tantissime armi da scoprire e provare. E vabbè, questo immaginavo. Abbiamo una sorta di sferografia, magari. Allora, ora puoi cambiare la gamma dei membri della tua squadra, impostando qualsiasi abilità, arte, sacra o oggetto che vuoi utilizzare. Se modifichi una gamma in battaglia, le abilità modificate vanno in ricarica e i potenziamenti e il personaggio si azzerano. Ah. E perché si azzerano? Vediamo un po' qui il menu. Attrezzatura di equipaggiamento. Diamo un'occhiata. Equipaggiamento e statistiche. Cambia l'equipaggiamento dei membri della squadra e vedi i parametri di potenziamenti e le penalità. Puoi anche cambiare i costumi. L'equipaggiamento può essere cambiato nel corso di una battaglia, ma così facendo le attività entrano in ricarica e i potenziamenti vengono azzerati. Non conviene, ragazzi, allora. Puoi cambiare i costumi. Nella schermata cambia aspetto. Ottieni nuovo equipaggiamento per aumentare la scelta di armi e nuovi costumi per aumentare la scelta di armature. Sblocca il colore tintura per cambiare la tinta dell'armatura di Chirito. Statistiche doppia arma. Quando usi una doppia arma, i danni e le altre statistiche, forza, vitalità, eccetera, rimettono la metà del totale di entrambe le armi. Inoltre, le abilità passive dell'arma impugnata con la mano sinistra non funzionano. È comunque possibile impostare sulla gamma e usare le abilità combattimento. Ok. Premi R3 per... No, no. Non ripetiamo nulla. Ok. Allora, così, ragazzi, mi piace il menu, eh. Vediamo un po'. Questa equipaggiata... Ehm... Ah, ma questa fa anche più male, non ho ben capito. Quindi ho acquistato questa? Senza un senso? Mmh... Vediamo un attimino qui. Attacco 283, qualcosina aumenta, però... Però... Diciamo il però. Allora, qui abbiamo degli oggetti, eh. Aumenta la difesa. Uno. E due. Potenziamenti e penalità. Vediamo un attimino. Attacco più 10. Potere raffica. Ok, abbiamo fatto anche qui. Gamma abilità, vediamo. Controllo e modifica i set di abilità nella gamma. Puoi modificare la gamma di ogni personaggio o arma. Cambiando le mosse finali, modificherai le abilità a spada che si attivano automaticamente dopo gli attacchi normali. Bene. Ehm... Perché dovrei modificarlo adesso? Non ha senso. Anche perché non ho nulla in più, quindi... Gestisci oggetti, vediamo un attimino. Controlla gli oggetti che possiedi, parametri di equipaggiamento e usa gli oggetti consumabili. Puoi trasportare fino a mille oggetti, mille, ma remma, esclusi quelli equipaggiati e preziosi. Hai più di mille oggetti, quelli in eccesso verranno inviati al magazzino temporaneo. Ok. Qui abbiamo un po' armature, protezioni, erbe, insomma abbiamo un po' di tutto qui. Bene. Iniziamo a conoscere il menu, insomma. Ok, detto questo ragazzi possiamo proseguire verso dove? E vediamo. Allora abbiamo la... Verso il territorio oscuro, ma qui... Vediamo un attimino queste... Foglioline verdi di cosa si tratta, eh. Diamo un'occhiata. Ehi, ti senti bene? Eh, cosa hai detto? Ho paura. Ah, ok. In un vero combattimento morirei di certo, non voglio morire, non voglio. Ehi, calmati. Come faccio a calmarmi? Non importa quando tu abbia paura. Devi difendere il regno degli umani, sii forte. Forte ci sono se vuoi che sia forte. Allora addestrami, che ne dici? Non è questo che intendevo, però ok, ma sappi che non ci andrò piano con te. Certo, cominciamo. È solo un allenamento. Se metterà a segno una decina di colpi, si sentirà meglio. Va bene. I soldati umani si addestrano tutti i giorni, ma non hanno esperienza. Il morale a terra, non stupisce che siano spaventati. Infondi loro un po' di coraggio. Bah. Devo infondere un po' di coraggio. Certo. Ok. Non è molto incoraggiato così, eh, ragazzi? Credo di no, eh. Credo di no. Avrò esagerato, che dite? Vai. Bene. Bene. Non è finita qui, eh, purtroppo. Adesso è finita, forse. Sì, ho perso, ma ho messo a segno qualche attacco decente. Già i tuoi colpi non erano niente male. Almeno si incoraggiano. Grazie, è stata dura, ma ora ho più fiducia in me. Continua ad allenarti e diventerai ancora più forte. Hai ragione, non proteggo solo me, ma tutti quanti mi impegnerò. Trofeo, bravo. Questo è l'animo che devi avere. Ho ottenuto una cintura, va bene. Trofeo sbloccato anche qui. Adesso. Qui abbiamo altri soldati, forse, che bisogna addestrare. Non ho ben capito. Non ho ben capito, vediamo. Saranno anche cose secondarie, però bisogna farle. Allora, qui non si può andare. Ok. Saliamo un attimo qui. No, tra poco andremo verso la destinazione principale. Non vi preoccupate di questo. Assolutamente non vi preoccupate, ragazzi. Assolutamente non dovete preoccuparvi di nulla. Indaga. Assolutamente no. Ma qui? Fatemi dare un'occhiata, tranquilli. Eccoci qui, ragazzi. Vediamo un po' questo soldato cosa... Le missioni di servizio sono richieste negli NPC. Completele per ricevere varie ricompense. E vanno completate, ragazzi. Vanno completate. Non ci credo che ho perso il talismano della mia famiglia. Senza quello io... Che succede? Ecco, ho perso un piccolo talismano che mi è molto caro. Ce l'avevo in tasca. Giusto, scusa. In realtà è un ornamento per capelli. Se lo trovi, fammelo sapere. Sapendo di non avere alcuna esperienza, il soldato ha portato un ricordo da casa per farsi forza. Ma l'ha perso. Per lustra la via del gran cumulo e trovalo. Eh, cosa trovo? Vediamo questo. Non è nemmeno qui. Che fine avrà fatto? Cosa? Cosa c'è? Ehi, tu hai visto una lettera grande più o meno così da queste parti? Una lettera? Mi è caduta a mente trasportavo delle scorte. Puoi trovarla per me? Scusami per il disturbo, ma te ne sarei davvero grato. Sapendo di non avere alcuni esperienzi, il soldato ha portato una lettera da leggere per farsi forza. Ma l'ha persa. Per lustra la via del gran cumulo e trovala. Ah, tutto lì, insomma. La via del gran cumulo. E dov'è? E dove sarà mai? Intanto andiamo qui un attimino. Con le compre dovremmo essere a posto. Ora devo impacchettare questa roba. Bravo Chirito. Bravo. Fai qualcosa di decente. Chirito, quei nuovi abiti ti stanno benissimo. Anche tu non sei niente male, Ugeo. Sono leggeri ma robusti. Sì. Lady Cardinal li ha preparati per farci essere impeccabili durante la missione. Ah, capisco. Dopotutto il nostro equipaggiamento si era rovinato durante i nostri scontri. Ugeo sta bene con quei vestiti, ma Chirito tu sembri un po' strano. O avanti, non sono così diverso da Ugeo. Ma insomma. Tu sei perfetta, Alice. Degna di una ambasciatrice di pace. Ebbè. Grazie mille. Ma guarda, Alice, è tutta rossa. Che ti prende? Non fai il bambino. Non fai il bambino. Sì. 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 Io sono qui, Sì. Sì. Možere il nostro amore che mi ha trasgaduto. Sì. 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 Grazie a tutti sono 静かにするように 言いつけますから 同行のお許しを お願いできないでしょうか まあ もちろんちゃんと送り届けてやらなきゃな サライ いい子にできるか うん いい子にする かわいいわ 任せて 頼れるお姉さんたちがいっぱいいるわよ 反対の方はいないのでしょうか てっきり 暗黒界の子供など 旅に連れて行けぬと 言われるかと まさか 誰かが守ってあげないとダメだろ まだ小さいんだし えっと あ、はい ナナリとお呼びください 俺もキリトって呼んでくれ ドロシー 行きはいろいろ大変だっただろう 帰りは俺たちがいるから頼ってくれよ ドロシー殿の話中失礼します はい そんなに緊張されずとも良いですよ Sì, sicuramente Trazione di un'altra parte di un'altra parte, è vero che la voce di un'altra parte? Sì, ma che la legge della fortuna è l'escalata di un'altra parte, è vero che i miei pensi sono iniziati Per questo, per esempio, una delle strutture di un'altra parte che si tratta di un'altra parte Sì 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 Da quella parte In quella direzione Sembrerebbe di sì Vediamo Lo scopriremo nel prossimo episodio ragazzi Perché andremo avanti Nel prossimo episodio Un forsiere, un forsiere, ottimo Chirito e i suoi amici attraverseranno il vastissimo territorio oscuro incontrando nuovi amici e nemici lungo la strada, cresceranno esplorando aria mai viste, parlando con la gente, ottenendo abilità e affrontando avversari potenti. In ogni mappa è presente una pietra, in ogni mappa è presente una pietra, trovala per aumentare la quantità di informazioni mostrate, mostra l'intera mappa e le aree che deve ancora visitare, mostra la posizione dei forzieri, mostra la posizione delle missioni di caccia, e vabbè, mostra tutto. Comunque Comunque ragazzi Allora adesso andiamo a chiudere questo episodio perché abbiamo fatto veramente tantissimo Allora, perfetto, possiamo chiudere qui un nuovo episodio Il secondo episodio per quanto riguarda questo nuovo capitolo di Sword Art Online, quindi il vostro Diablotex come sempre vi dà appuntamento con il prossimo gameplay che arriverà molto a breve Vi ringrazio di cuore a tutti per il vostro supporto Vi ricordo che se vi farà piacere potete lasciare un like, un commento, potete condividere il gameplay, iscrivervi sul mio canale YouTube Insomma fate un po' come volete, qui sono i vari personaggi attualmente che abbiamo in squadra Ve li farò vedere uno ad uno, così vi gasate anche Ok, torniamo su Chirito Il secondo episodio si conclude qui, vi do appuntamento con i prossimi gameplay Grazie di cuore a tutti Ciao a tutti e alla prossima ragazzi, grazie ancora